giù e sabbia ferral pisalò categoria under 17 andata degli ottavi di finale di playoff è terminata con il risultato di 1 a 0 una sconfitta per le respette tra i migliori in campo anche vincenzo bozzavute ciao vincenzo buonasera vincenzo partiamo da quell episodio ti sei liberato conclusione val torta fatto una parata straordinaria sulla tua conclusione peccato peccato davvero perché meritava quella conclusione un qualcosa in più no vabbè a parte per come mi sono liberato penso che il portiere abbia fatto una bella parata quindi complimenti a lui e però data un po la stanchezza non ho avuto la lucidità di piazzare la palla magari a terra loro essendo grandi fisicamente magari andava più in difficoltà del portiere però non ho avuto questa lucidità vincenzo tranquillizziamo tutti come stai perché ti avevano visto uscire dal campo zoppicando no no vabbè sono crampi un po di stanchezza andremo lì sicuramente molto meglio fisicamente ecco mister di somma detto approccio positivo alla gara poi avete voluto un po strafare si è subito gol non si è riusciti a pareggiare quella traversa poi di casella lo scadere grida ancora vendetta un vero peccato bisogna andare lì adesso settimana prossima e vincere per 2 a 0 no vabbè parlando della traversa possiamo dire che la fortuna non ci rimane dalla nostra parte però quindi con molto impegno e spirito di abbenegazione dobbiamo lottare ancora di più questa settimana lavorare tantissimo e andare a salò a ribartare questo risultato grazie vincenzo grazie ciro buonasera hai voglia di pizza fritti e rosticini o di primi secondi e dolci gustosi di un drink o di un cocktail questo è il posto che fa per te l'incrocio sa prenderti per la gola la tradizione di un'antica ricetta gli ingredienti naturali e tanto amore il giovedì venite a provare il nostro nuovo arrivato il buttaziello ondufato chiedetelo provatelo e poi ci direte tipica l'italian food l'incrocio lo puoi trovare a torre annunziata in via vittorio veneto 360 per prenotazioni chiamalo 081862 2836 fly line sport veste lo sport il tempo libero da noi puoi trovare tutto quello che ti serve le marche più prestigiose novità di grido tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri adidas nike k puma macron e tanti altri il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti lo sport è passione la passione lo sport e noi lo sappiamo bene vieni a trovarci in via d'europa 51 g a castellammà di sabbia napoli il loro spazio il loro mondo ecco il segreto di una famiglia felice le camerette fattore di felicità familiare le camerette arredamento specializzato per ragazzi ascafati www.lecamerette.it una pizza deliziosa rosticceria di prima qualità gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato non puoi non provare le nostre specialità non puoi non venire da noi melis pizza lo trovi in via d'europa 82 a castellammare distante every day is beautiful crediamo che la bellezza sia una cosa raggiungibile da tutti insegniamo che essere belli non è un sacrificio non deve essere necessariamente dispendioso o qualcosa che appartiene agli altri essere belli è semplicemente sentirsi bene tutto il giorno tutti i giorni della vita offriamo prodotti di bellezza delle grandi marche e consigli per ogni giorno della vita del cliente aiutiamo le persone a stare bene con se stesse e di conseguenza con gli altri ci rivolgiamo con rispetto e professionalità siamo sempre disponibili ti aspettiamo da Olshev viene a trovarci a pompei nel centro commerciale la cartiera mi ricetta mi ricetta si